Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Pistola puntata in faccia per una mancata precedenza Dopo il terremoto prosegue la nostra mininchiesta sulle scuole e questa sera tocca saltare Carolibri, il solito salasso per le famiglie Il brodetto amatoriale trova spazio al festival Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori dalla redazione di Occhio alla Notizia l'informazione sul canale 17 di Fano TV e allora cominciamo subito dalla prima notizia che è una notizia di crona che riguarda una serie di operazioni messe a segno dagli agenti del commissariato di Fano Una di queste riguarda la denuncia di un uomo che a un certo punto per una questione di precedenza ha perso le staffe ha fatto un piccolo inseguimento e poi si è rivolto con l'altra persona con la quale aveva litigato l'altro automobilista e gli ha puntato la pistola in faccia Ci racconta tutto Lino Valestra Un pesarese di 46 anni già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio è stato denunciato all'autorità giudiziaria per minacce L'uomo alla guida di un furgone nella mattinata di martedì scorso a seguito di una mancata precedenza con un automobilista cinquantenne di Fano all'altezza della rotatoria di Ponte Metauro si è lanciato al suo inseguimento e dopo averlo raggiunto lo ha minacciato pesantemente e gli ha puntato contro una pistola di grosse dimensioni e poi è ripartito alla volta di Pesaro L'automobilista terrorizzato ha raccontato tutto agli uomini del commissariato di Fano che si sono messi subito sulle tracce del furgone e dopo poco lo hanno rintracciato e bloccato Nel furgone, nascosta tra i due sedili gli agenti hanno ritrovato l'arma che in realtà era un modello in plastica a cui era stato tolto il tappo rosso Gli agenti del commissariato fanese inoltre hanno rintracciato due autovetture rubate una Polo nei pressi della stazione ferroviaria di Fano trafugata a Fabriano nei primi giorni di agosto e servita per un furto in abitazione ed un furgone Fiat Fiorino rubato in un cantiere edile a Bellocchi a luglio con al suo interno ancora la refurtiva e per quest'ultimo sono stati denunciati a piede libero due fidanzati per il reato di ricettazione altri controlli hanno portato a denunciare sempre per ricettazione un marocchino di 50 anni residente alla Gimarra perché è trovato in possesso di un telefonino del valore di 700 euro rubato all'interno dell'ospedale Santa Croce di Fano c'è stato un incidente intorno alle 4 e un quarto di questa mattina in via della giustizia Fano una Fiat 500 di proprietà di una donna residente a Serrungarina ha battuto, come vedete dalle fotografie ha battuto, dicevo, un palo della luce e un cartello stradale nell'urto il lampione è caduto a terra provocando un gran frastuono che ha svegliato alcuni abitanti delle case vicine gli stesi che poi hanno avvertito la polizia che è arrivata sul posto con una pattuglia da Cagli gli agenti hanno individuato l'auto senza nessuno a bordo mentre la proprietaria è stata rintracciata poco dopo e adesso dovrà fornire spiegazioni sul perché di questo incidente continua il nostro viaggio sul territorio per quanto riguarda le scuole dopo la grande paura del terremoto abbiamo sentito un po' i vari sindaci stiamo ascoltando i vari sindaci per capire un po' in che stato si trovano questi plessi scolastici dove tra qualche giorno rientreranno i nostri figli la riapertura delle scuole si avvicina e il recente terremoto nel centro Italia ha riaperto l'annosa questione della sicurezza nelle nostre scuole numerose giungo la nostra redazione le richieste di genitori che vorrebbero conoscere le condizioni in ambito di antisismica della scuola frequentata dai loro figli oggi consideriamo le scuole comprese nel territorio del comune di Saltara il comune di Saltara ha quattro scuole materne due a Saltara, la Leopardi e la Montessori e due a Calcinelli, la Collodi e la Rodari due scuole elementari una a Saltara e una a Calcinelli ed una scuola media a Saltara l'istituto comprensivo Leopardi come ci ha riferito il sindaco Claudio Guccioni a seguito del sisma su tutte è stata effettuata dagli uomini dell'ufficio tecnico del comune un'ispezione visiva per valutare eventuali conseguenze delle scosse inoltre è stata eseguita una verifica statica dei solai in ordine alla normativa antisismica vigente non sono stati eseguiti i lavori di adeguamento sismico ancorché nella scuola Collodi essendo un edificio di recente costruzione inaugurato negli anni 90 Questa dunque è la situazione delle scuole a proposito delle scuole parliamo adesso del è un servizio che si fa praticamente all'inizio di ogni anno scolastico quello del caro Libri però vale la pena ricordare che insomma per mandare i figli a scuola bisogna tirare fuori ogni volta un sacco di soldi per i libri fra pochi giorni riaprono le scuole e migliaia di famiglie italiane in questi giorni sono le prese con il caro scuola le spese per alunno nel corso dell'anno nelle marche ci dice il Codacons può arrivare fino a 500 euro ed oltre a seconda di età ed indirizzo scolastico in tutto questo quasi due terzi della somma va a coprire l'acquisto per i libri di testo il restante copre spese per accessori zaini e borse diari, astucci, penne e acquisti di materiale tecnico una giungla nella quale mamma e papà si trovano tra l'incudine e il martello i figli che spingono su prodotti pubblicizzati o griffati ed esigenze di bilancio soprattutto se i figli sono più di uno ad oggi la maggior parte delle famiglie sul fronte dei libri di testo opta con un mix tra usato e nuovo e cambiano anche i canali di approvvigionamento con un 47% delle famiglie che si rivolge alle classiche cartolibrerie ed il restante 53% alle grandi catene di distribuzione che offrono scontistiche che possono arrivare fino al 30% sono 3-4 anni anzi anche più che portiamo avanti questa politica con degli sconti mirati appunto per l'acquisto dei libri scolastici ecco registrate un incremento di questa di questa tipologia di clienti anno dopo anno sinceramente c'è un incremento di questa tipologia di ordine dei libri al lato dell'acquisto noi rilasciamo uno sconto un buono sconto del valore del 25% del costo sostenuto per i libri che poi utilizzeranno successivamente per la spesa quotidiana ma in aiuto delle famiglie arrivano anche i consigli della Codacons per abbattere i costi non inseguire le mode o gli oggetti griffati si risparmia fino al 40% preferire la grande distribuzione o il supermercato si riesce a risparmiare fino al 30% e poi non tutto è subito rinviare gli acquisti non necessari aspettare i professori per gli acquisti tecnici con passi, dizionari eccetera e approfittare anche delle offerte promozionali kit a prezzo fisso in aiuto delle famiglie italiane arriva anche la tecnologia con delle app scaricabili sui dispositivi digitali che aiutano a districarsi tra offerte e prezzi pitch my book per comprare e vendere libri usati upi per stampare appunti e dispense e diariodiscuola.net un diario tutto digitale poi bisognerà spiegare ai figli che comunque lo zaino non griffato vale lo stesso ma questo è un altro problema adesso invece avremo per un attimo la pagina politica locale perché c'è da registrare la dichiarazione del sindaco di Fano Massimo Seri che dice con il partito democratico non c'è nessuno non c'è stato nessuno strappo riferendosi alle ultime dichiarazioni di Nicolelli sui quotidiani a proposito dell'ospedale unico ma soltanto un chiarimento Sindaco allora questa vicenda dell'ospedale sta prendendo aspetti anche poco piacevoli forse il signore ritorna in auge con questo algoritmo Movimento 5 Stelle forze politiche ma anche intrinseche alla maggioranza si stanno mettendo in modo cosa sta succedendo non deve stupire perché il tema della sanità inevitabilmente è un tema molto sensibile tocca tutte le persone c'è un'attenzione forte questo accade in tutte le città in tutti i territori dove si parla di sanità è chiaro che quando un tema è complesso ci sono anche visioni ci sono aspettative ci sono preoccupazioni per quello che mi riguarda io ho tenuto sempre la barra ferma e questo lo si evince da ogni mia azione dalle cose che ho fatto e anche dal dibattito e onestamente ho evitato di questo ne sono convinto e penso di aver fatto veramente il sindaco di questa città avendo impedito di subire scelte di altri perché le scelte devono essere condivise anche se dobbiamo essere consapevoli che purtroppo non è un comune una città che decide quando parliamo di sanità è una competenza della regione quindi le dinamiche sono diverse e sono gli interlocutori sono molteplici e quindi sotto questo aspetto aumenta la complessità quindi inevitabilmente il dibattito è stato e sarà e lo è ancora forte sia a livello cittadino che provinciale col PD c'è dialogo si parla questo tutti a casa è vero o è un modo così per richiamare tutti tutti all'ordine beh intanto bisogna c'è sempre un momento in cui bisogna fermare le bocce e chiarirsi devo dire che sono state delle uscite più personali che di partito però ogni uscita comunque possono manifestare un malessere possono manifestare delle opinioni quando ci sono è bene confrontarsi io l'ho già fatto ieri ci siamo ci siamo incontrati comunque la nostra posizione non cambiano noi siamo fermamente convinti che la soluzione migliore della scelta del sito sia quella di Chiaruccia come tutti gli interruttori esterni che sono al di sopra delle parti riconoscono però sono anche consapevole che non siamo noi a decidere quindi io fino alla fine quella battaglia la porterò avanti e poi ovviamente devo tener conto anche di quella che è la situazione di quelle che sono le situazioni che emergeranno cercando di portare il miglior risultato per questa città prossimo appuntamento è con l'area vasta con i sindaci con i suoi colleghi che prospettive che cosa si metterà in campo in quell'occasione beh siamo in una fase di discussione perché il sindaco Gambini con il quale mi sento periodicamente ovviamente non è che convocherà un'assemblea allo sbaraglio senza cercherà di arrivare con una condivisione se questa è possibile e io mi auspico che così sia tra pochi giorni si accenderanno i fornelli e soprattutto le luci del festival internazionale del brodetto e tra le novità c'è la sfida tra i cuochi amatoriali l'Italia è una penisola ed è circondata dal mare e tutte le città di mare che vivono di pesca e di pescato sono accumunate da una gastronomia che riflette la matrice del territorio o del mare in questo caso pesci differenti fondale marino posizione geografica influiscono su sapori e consistenze tra ingredienti ed aromi che compongono una ricetta un piatto ma pur tra mille ricette ce n'è una che lega ogni città ogni paese che si affaccia sul mare caciucco zuppa buridda ghiotta buiabes in Francia a Marsiglia o brodetto sulla costa adriatica pesci diversi mille ricette mille varianti cono senza crostacei cono senza cocci pomodoro fresco oppure concentrato cipolla sì o cipolla no la fantasia e la tradizione vincono su tutto a Fano questo piatto della gastronomia locale da tempo viene celebrato con una manifestazione che nel tempo è cresciuta da semplice gara amatoriale a vera e propria tra chef internazionali ora il festival internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce per la sua quattordicesima edizione riprende la strada del nazional popolare reintroducendo la gara amatoriale il carattere importante che abbiamo voluto dare è quello della popolarità puntiamo su una bella festa popolare un fine settimana di grande partecipazione di pubblico un fine settimana di grande integrazione con gli altri contenuti importanti della città di Fano il carnevale il jazz saranno protagonisti del nostro festival quindi questo aspetto della partecipazione del gioco della riflessione intorno alla scommessa di rilanciare di sostenere la produzione ittica e il consumo della produzione ittica nei nostri ristoranti i cooking show si terranno tutti sul palco centrale tutti guidati da Federico Quaranta il fede di Fede Tinto di Decanter di Radio 2 di Rai 2 tutti con chef stellati e di grande importanza però sono aperti a tutti e quindi tutti avranno la possibilità di assistervi di confrontarsi con le proposte che saranno presentate ma le novità di questa edizione non solo nell'impianto degli eventi anche il comune recita una parte primaria investendo e credendo in questa manifestazione che arriva a fine estate e che serve anche per la destagionalizzazione dell'offerta turistica è una manifestazione che chiude una stagione che ci ha dato molte soddisfazioni l'anno scorso 80.000 visitatori quindi una grande kermesse che fa prestigio per tutta la regione Marche il tema della promozione diventa importante non solo per gli esercenti che hanno inserito tutti il bordetto nel loro menu per esempio ma di un intero territorio un intero territorio che è fatto di tradizioni che è fatto di una cultura enogastronomica che la gente scopre apprezza e quindi dal vino che viene coniugato con le pitanze di pesce a un piatto povero che è diventato invece un piatto frutto di sperimentazione dei più grandi chef nazionali e internazionali che si confrontano insieme agli chef locali e adesso gli appuntamenti ci sono due eventi pro terremotati cominciamo dal primo un concerto di beneficenza per le vittime del terremoto nel centro Italia dalle ore 21 e 15 presso la chiesa di San Domenico di Fano per l'occasione si esibiranno i cori di Fano e dintorni con l'intento di raccogliere offerte che saranno devolute sul conto corrente aperto dal comune di Fano insieme alla protezione civile e dalla fondazione Fano Solidale il secondo invece riguarda la Croce Rossa italiana la sezione di Fano con la collaborazione del gruppo di animazione Pazza Idea Enjoy organizza la serata di beneficenza con lo spettacolo musicale Il Re Leone alle ore 21 e 15 nel piazzale di Torrette a Fano e a proposito di conto corrente il comune di Fano per agevolare la raccolta di fondi destinati appunto alle popolazioni terremotrate ha aperto grazie alla fondazione Fano Solidale un conto corrente a zero spese dove convogliare tutte le raccolte fondi che vengono promosse e coordinate con gli investimenti in accordo con la protezione civile e come gesto formale tutti i consiglieri comunali nella prossima seduta del Consiglio devolveranno in beneficenza il loro gettone di presenza e adesso parliamo dell'appuntamento che ci sarà lunedì prossimo alla BCC Arena ultimo appuntamento con la rassegna del teatro dialettale questa volta tocca la compagnia Francesco della Betta allora la compagnia Francesco della Betta debutta a tre ponti al teatro sotto le stelle è la prima volta che veniamo al teatro sotto le stelle a Fano abbiamo già una lunga gavetta in tutta la provincia presentiamo uno spettacolo che non è nuovissimo giusto? l'abbiamo già presentato al teatro Rossini di Pesaro al teatro sperimentale di Pesaro al teatro Sanzio di Urbino siamo già stati da Rocca Costanza a Pesaro però Fano per noi era un obiettivo e siamo felicissimi 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 c'è un privilegio per noi essere e poter debuttare all'arena BCC di tre ponti di che cosa parla con un po' la trama svegliamo qualcosa la commedia si chiama a che ora passa la corriera delle otto la trama adesso non possiamo perché diciamo che è un quadro è un quadro di una di una famiglia con delle implicazioni che diciamo raggiungono anche l'ultraterreno è un viaggio fantasioso a data ritorno attraverso il quale chiaramente però diciamo delle cose ben preciso nulla è ciò che appare per lo sport sabato alle 20.30 lo stadio Mancini di Fano giocherà la prima partita in casa in Lega Pro dopo tantissimi anni l'Alma Juventus Fano contro la squadra del Sant'Arcangelo inizio alle 20.30 prima di salutarvi vi ricordo che l'informazione torna domani mattina alle 7.30 con occhio ai giornali la rassegna stampa subito dopo alle 8 la Santa Messa quindi in anticipo di mezz'ora rispetto al solito perché poi domani mattina ci sarà una lunga diretta dal Vaticano così come sarà una lunga e straordinaria diretta quella di domenica che Fano TV seguirà naturalmente come fa ormai da 10 anni a questa parte con il Papa che canonizzerà Madre Teresa di Calcutta è tutto grazie per averci seguito a voi tutti i lavori e una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.